ciao ragazzi da vittorio è tempo di pagelle e le pagelle post l'azio roma saranno sicuramente più divertenti del solido ciao a tutti da vittorio mi raccomando se sei un tifoso da lazio questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò due nuovi video una alle 14 e una alle 20 sulla prima squadra capitale quindi se sei un tifoso da lazio iscriviti al canale e clicca la campanella in modo tale che youtube ti inverrà le notifiche facciamo le pagelle le pagelle di questo derby dominato dal primo al 96esimo non mi ricordo onestamente un derby così dominato dalla lazio e quindi le pagelle sono evidentemente positive partiamo da reina reina mi è piaciuto gli do 7 perché è vero fa la prima parata all 85esimo ma la cosa importante secondo me sono le uscite alte perché un portiere quando ha coraggio fa quelle uscite alte dà sicurezza tranquillità alla difesa la roma nel primo tempo ha provato a buttare qualche palla in aria di rigore per zeko reina è stato molto bravo in un paio di uscite ad anticipare l'attaccante della roma e questo ha dato fiducia a tutto il reparto luiz felipe 7 a parma mi ha fatto un'ottima impressione si è confermato contro la roma ottima fase difensiva ripeto brasiliano quando è in condizione secondo me uno dei più forti difensori italiani il suo vero problema italiani in italia suo vero problema è la condizione fisica troppo e troppo spesso è infortunato anche a cerbi 7 zeko tira in porta per la prima volta l'ottantacinquesimo parte quello zeko non è mai pericoloso quindi a cerbi bene 7 anche a radu che è vero che prende un giallo nei primi minuti della partita però tutto sommato fa un'ottima prestazione non deve dare la palla in profondità perché sbaglia sempre questo passaggio ma a parte quello radu molto bene molto bene anche lucas leiva do 7 anche lui a lui a parma non mi era piaciuto ero molto preoccupato perché nel derby leiva avrebbe svolto un ruolo fondamentale perché mkhitaryan è l'anima della roma e sarebbe stato nella zona di leiva e invece leiva fa un partitone annulla mkhitaryan per praticamente tutto il match è sempre nella posizione giusta e quindi ottima partita di leiva autoritario mi piace notare che alcuni giocatori della lazio quando la partita diventa importante crescono di qualità e leiva è uno di quelli lazari 10 10 perché che cosa sbagliato ieri lazari nulla ha ridicolizzato i bagnets che dove essere il difensore giovane più forte del campionato di serie a ha fatto altri due assist ieri anche se il primo no il secondo non viene considerato assist per me e assist lo stesso tutti i tre gol della lazio nascono da lazari e quindi 10 per lazari che avevamo detto nel passato fa quasi sempre tutto giusto sbaglia l'ultima cosa ieri non ha sbagliato neanche quella 7 anche a marusic che anche ieri ha dominato l'altra fascia la roma sulle fasce è stata invisibile marusic bene sia in fase offensiva che in fase difensiva per cui un'altra ottima prova 7 e mezzo a luis alberto è vero non fornisce assist ma fa due gol e che chiudono la partita ha interpretato bene la partita ha fatto girare bene il pallone qualche passaggio sbagliato di troppo per questo non gli do 8 però due gol di grande fattura è anche vero che luis alberto ha talmente tanta qualità che se gli dà il tempo come è successo nel terzo gol di stoppare il pallone alzare la testa a vedere il portiere sei già fregato minico isavic 7 parte un po' sotto tono sbaglia una palla pericolosissima che gli costa il giallo però secondo me in fase difensiva minico isavic è diventato molto molto prezioso sempre più leader silenzioso ma in campo si fa vedere per cui altra ottima prova di minico isavic che sta crescendo come tutta la squadra non è secondo me un caso che la crescita di minico isavic è stata anche la crescita della lazio che ha infilato tre vittorie consecutive caisseto 7 secondo me si fa male nel primo tempo però finché è riuscito a giocare ha messo in grande difficoltà la roma e poi solo per quel tweet su rizzitelli credo che si meriti un voto altissimo comunque caisseto la sua partita la fa sempre 7 e mezza cire mobile cire mobile non solo segna non solo si muove tantissimo a difende anche il secondo tempo l'abbiamo visto anche in fase difensiva e questa è la grande differenza zeko non si vede per tutta la partita non dà una mano in fase difensiva cire mobile era ovunque non solo segna non solo si muove e crea spazio per gli altri ma difende anche veramente un giocatore spaziale in zaghi 9 perché con cinque giorni di tempo ha preparato benissimo la partita ha escogitato contromosse per bloccare la roma ha scelto la formazione giusta ma quella era abbastanza evidente però azzecca tutto azzecca tutto e l'ha preparata molto bene mentre io darei a fonseca 4 perché sbaglia tutto Akpa Pro 7 è entrato molto molto bene Akpa è un giocatore che dà sempre il suo però nel derby ha aggiunto qualità alla quantità ed è stato un ottimo innesto nella Lazio Patrick anche 6 e mezzo ha fatto pochino perché è entrato ormai a partita chiusa però ha fatto molto molto bene stesso discorso per Murici partita finita però lui ha fatto il suo Escalante 6 e mezzo perché entra al posto di leva ammonito ha difeso la difesa mettendosi davanti ha girato palla però ormai la partita era virtualmente finita comunque direi ottime le pagine della Lazio questi sono le mie quali sono le vostre scrivete nei commenti qui sotto ciao alla prossima Grazie per la visione! Grazie a tutti!